Parliamo sempre di filosofia, parliamo sempre di storia, ma ogni tanto parliamo anche di film che si intericciano con la filosofia e con la storia. Di solito sono film che c'entrano relativamente poi con la storia e la filosofia perché raccontano delle narrazioni, delle storie, delle vicende e magari noi un po' anche forzatamente a volte ci troviamo dei collegamenti, ma è appena uscito un film molto molto bello che invece non ha bisogno di forzature perché è davvero un film estremamente storico e anche filosofico, quantomeno ci pone dei quesiti filosofici interessantissimi. Il film in questione si chiama Oppenheimer, ne avete sentito parlare sicuramente perché è uno dei grandi eventi di questa stagione cinematografica, l'ho appena visto e ve ne parlo, spiegarlovi cosa c'è di vero, spiegarlovi perché è interessante dal punto di vista storico-filosofico e raccontarvi anche qualcosina ovviamente della trama, ma se conoscete la storia della bomba atomica probabilmente grandi cose le conoscete. Già, andiamo a cominciare. Non so se il caffè è nella sua altra tazza, con la scritta andiamo a cominciare che mi fa sempre compagnia con me ci sono i miei soliti compagni d'avventura, c'è Topolino, Tostoi, Batman, D'Andrea ho scurato, sbagliato, Topolino, Tostoi, Batman, D'Andrea, il mostro profilo di Cuscino e un altro mostro di Cuscino ormai sono talmente abituato a dire questi nomi che non guardano neanche più se sono a destra o a sinistra e poi ci sono, io mi chiamo Armando Ferretti, sono insegnante di storia e filosofia, insegnore di liceo scientifico di Lovigo e da tre anni, superati ormai abbondantemente, su questo canale realizzo ogni santo giorno video spiegazioni di storia, di filosofia, di educazione civica che mi dicono vengono molto utilizzate ai superiori, all'università, per preparare esami, per preparare concorsi, per in generale approfondire la conoscenza e lo studio e le competenze, spero anche di queste, tipiche di queste discipline che poi sono competenze che interessano l'essere umano in generale, ogni aspetto della nostra vita e però appunto come dicevo anche nella premessa ogni tanto parliamo anche di cose che di per sé direttamente non c'entrano con la storia e la filosofia ma permettono di, magari in maniera un pochino più accattivante, di avvicinarsi ad alcuni temi della storia e della filosofia come appunto anche i film. I film di cui parliamo oggi è un film che sta diventando un piccolo caso, un piccolo, anche senza piccolo, un grande caso mediatico perché sta battendo alcuni record, non record in caso in generale, quello abbiamo visto, c'è già stato Barbie che ha fatto dei record dal punto di vista commerciale ancora più imponenti e in descrizione vi lascio un link a quando abbiamo parlato di Barbie dal punto di vista filosofico però ecco, ho letto proprio ieri che è il film ambientato nella seconda guerra mondiale col maggior incasso, quindi già questo risultato visto che sono stati fatti tantissimi film sulla seconda guerra mondiale, è un film che sta andando molto bene al botteghino nonostante non sia un film facile. Oppenheimer è un film complesso, un film lungo, dura tre ore secche, parla di fisica quantistica, cioè trovatemi un film che parli di fisica quantistica che fa così tanto, solleva un così alto polverone e fa parlare così tanto di sé e porta così tanta gente al cinema. Quindi è un buon risultato, è un risultato molto importante già di per sé, già il fatto che un film che si occupa di un tema storico, filosofico e fisico in maniera anche abbastanza intensa, perché chiaro che non è che sta a farvi la lezione di fisica quantistica ma accenna in maniera anche più volte diffusa a certi temi complessi, pone domande complesse impegna lo spettatore per una visione anche tutto sommato lenta per i ritmi di oggi e che ha questo successo, beh sicuramente è una buona notizia per tutta la cultura in generale abbiamo bisogno di film che avvicinino le persone a temi complicati poi è chiaro che si approfondisce anche studiando la fisica, studiando la storia eccetera ovviamente non basta vedere un film, però un film ti può portare a maturare quella sensibilità verso certi temi che possono essere molto interessanti quindi questo secondo me è un ottimo risultato d'altronde, devo dire, mio parere personale ma suffragato anche dal parere di molti critici quindi Oppenheimer è un gran film, l'ho visto ieri sera, ci ripensavo a quanto è valido e mi dicevo, l'ho anche scritto perché ne parleremo anche nella newsletter settimanale gratuita che è un film non il più personale di Nolan anzi tra i film di Nolan è quello meno, tra virgolette, nolaniano di tutti cioè quello che più sembra classico rispetto allo standard di Nolan voi sapete che Christopher Nolan, il regista, è un autore molto particolare ha fatto film altrettanto particolari tra l'altro ne abbiamo anche parlato filosoficamente in un video apposito che vi linko in descrizione dove spesso si gioca sul fattore tempo, sulle distorsioni del tempo sulle distorsioni anche della fisica Interstellar è un film molto interessante da questo punto di vista sulle distorsioni del sogno e della psiche Memento con ricordi, Inception appunto con i sogni e altre cose ancora quindi è uno a cui piace rovesciare i piani, le dimensioni diciamo spazio-temporali qui no, qui tutto sommato sì c'è qualcosina si vede un po' il tocco di Nolan nel montaggio anche nei punti di vista diciamo così però insomma è molto meno intenso da questo punto di vista di altri suoi film sicuramente sembra un film che da un certo punto di vista avrebbe potuto dirigere anche un altro regista d'altronde è il primo film di Nolan basato su un libro basato pedissequamente direi sul libro non scritto da Nolan quindi anche il meno personale forse dei film di Nolan però è un gran film rimane un gran film, il tocco di Nolan si vede c'è una grande scelta registica e molti passaggi frequenti passaggi sono scelti importanti dal punto di vista registico e poi c'è obiettivamente una gran storia io ho scritto ieri sui social network forse l'unico piccolo difetto che mi sentirei di muovere l'unica piccola accusa che mi sentirei di muovere non è non sempre equilibratissima nel dosaggio dei personaggi cioè del tempo da dare a un personaggio o un altro perché tutta l'ultima parte secondo me poteva essere più sintetica ecco detta in altri termini e il personaggio interpretato da Robert Downey Jr. questo Louis Strauss secondo me ha un po' troppo spazio rispetto al totale del film però vabbè è una piccolissima critica che non infice in realtà il risultato di un film veramente intenso veramente bello bello visivamente bello emotivamente bello anche filosoficamente allora brevemente dovrò fare qualche spoiler necessariamente ma insomma penso che la storia di Oppenheimer la conosciate parliamo brevemente di cosa c'è di vero in quello che si vede nel film e di quali problemi ci solleva cosa c'è di vero nel film Oppenheimer beh vi devo dire una cosa che forse vi sconvolgerà praticamente tutto cioè il film è basato su un saggio una biografia uscita qualche anno fa che vi linko in descrizione se volete poi andarla a comprare lettura molto interessante ben ricostruita storicamente e piuttosto affidabile e il film diciamo che è davvero la sceneggiatura si basa praticamente in toto su questo libro c'è qualche piccola libertà ogni tanto piccole cose chiaramente non possiamo sapere esattamente come andarono certi dialoghi cosa si dicevano Oppenheimer e la moglie cosa si dicevano Oppenheimer e l'amante quello ovviamente non possiamo sapere quindi quello si capisce che è un vuoto in cui Nolan ha aggiunto qualcosa a lui per compensare questo vuoto che non conoscevamo mai fatti sono tutti veri tutti 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 veri è vero ad esempio che Oppenheimer da giovane in Inghilterra tentò di avvelenare probabilmente la mela del suo professore anche se non si sa se forse è davvero cianuro probabilmente no però questo fatto che si vede all'inizio del film sì è vero è successo Oppenheimer quindi non era un personaggio così tra virgolette strano così normale come ci si aspetterebbe ma qualche problema l'ha avuto dal punto di vista del comportamento del rapporto con gli altri è vero che ha avuto molte amanti sì è vero è vero anche che la moglie era già sposata ed è rimasta incinta sì è vero è vero anche che lui aveva simpatizzato per il partito comunista in gioventù sì è vero che i suoi fratelli erano stati iscritti al partito comunista sì è vero che anche la moglie era intralazzata in quegli ambienti verissimo è vero che è andato in giro per l'America a contattare i vari scienziati per portarli allo Salamos vero vero che lo Salamos lo scelse anche lui l'ambiente che gli piaceva verissimo l'unica cosa non vera del tutto lì è che nel film lo si vede come un luogo completamente disabitato in realtà c'erano alcuni villaggi rurali e qualche villaggio indiano però più o meno ci siamo insomma non è che taglia via qualcosina il film è vero che poi dopo la guerra discusse molto riguardo alla bomba H verissimo tutta la discussione sulla bomba H tutta vera è vero che entrò in contrasto con questo Louis Strauss verissimo questo personaggio è esistito davvero? sì è esistito davvero sono andato a leggermi la biografia cioè la vita anche di questo Strauss che in Italia è poco noto ma in realtà a cavallo tra le due guerre mondiali fu un personaggio di primo piano della politica americana ebreo anche lui lo si dice nel film no a un certo punto dice che lui frequenta la sinagoga invece Oppenheimer no quindi Strauss ebreo più fedele al suo così retaggio alla sua storia Oppenheimer ma è completamente laicizzato e sostanzialmente ateo semiateo poi c'è questo discorso del distruttore dei mondi che ritorna è vero che i due lavorarono insieme sia nel comitato per energia atomica sia poi Strauss portò a Princeton appunto Oppenheimer ma è vero che ci furono contrasti sia sulle esportazioni come si dice a un certo punto degli isotopi c'è quel discorso che fa Oppenheimer che umilia Strauss sia poi appunto per tutta la faccenda del nulla osta per Oppenheimer per partecipare alle azioni dell'energia atomica quel processo farsa che si compie nel film è successo davvero poi nel film forse un po' anche lì romanzato ma è vero che Oppenheimer fece ricorso portò il suo avvocato portò la testimonianza di molti colleghi e amici ma gli viene rifiutato due a uno nulla osta quello è tutto vero quello che si vede nel film ed è anche vero che questo tentativo di togliergli il ruolo che aveva fu ordito proprio da da Strauss quindi verissimo ed è anche vero quello che si vede alla fine cioè l'audizione al senato americano di Strauss per diventare ministro del commercio e il fatto che venne bocciato che venne frenato ecco il film romanza un po' perché ma poco poco perché nel finale sembra che sia il personaggio interpretato da Remy Malek l'attore che ha fatto se avete presente Bohemian Rhapsody che sia lui a svelare al congresso al senato che Strauss aveva avuto un ruolo nel così nel mettere un po' la parte Oppenheimer in realtà la cosa è non viene portata solo a quel personaggio storico lì al senato era già nell'aria già altri ne avevano parlato quindi Strauss era già un personaggio un po' controverso in quel momento e quindi la bocciatura del senato fu meno tirata di quanto sembri nel film però insomma quelli fatti sono tutti veri è tutto vero è successo tutto è successo il Trinity l'esperimento Trinity è successa la corsa per avere la bomba atomica è successa è stata reale anche la discussione su dove farla cadere su usarla oppure no perché ricorderete una cosa che abbiamo fatto in storia c'è anche questo discorso la bomba atomica viene sganciata ad agosto agosto 1945 quando Roosevelt è già morto e infatti è decidere la fine Truman e viene sganciata sul Giappone quando la Germania si è già arresa e la guerra sembra a un passo dalla fine insomma dal punto di vista storico è un film estremamente curato film estremamente curato che mi sembraria anche bene il quadro della situazione adesso io quando guardo un film storico sono un po' tra virgolette prevenuto perché le cose in genere più o meno le conosco già e soprattutto sono molto attento a vedere che non vengano traviti gli atteggiamenti le coordinate spazio-temporali le atmosfere di un certo periodo storico ma è chiaro che un film essendo un'opera narrativa ci può un po' romanzare sopra ma l'importante è che il contorno sia realistico poi non sempre mi viene facile mettermi nella testa di uno che non conosce bene la storia e che vede per la prima volta che impatto possa avere questo film sul suo immaginario sulla sua conoscenza dei fatti eccetera infatti vi racconto anche questo piccolo fatterello ieri sera uscendo dal cinema ho incrociato mi sono andato a tardo pomeriggio sono uscito credo alle 8 di sera ho incrociato un mio ex studente che saluto che stava andando a vedere gli ho chiesto queste cose stavano a vedere Oppenheimer bravo gli ho detto così si fa e gli ho mentre andavamo via gli ho urlato dietro mi raccomando capire tutto perché? perché dal punto di vista storico quello che noi facciamo in quinta quello che io ho fatto in quinta con la mia quinta quest'anno lo faccio ogni anno dovrebbe servire a dare esattamente quelle coordinate storiche lì c'è tutto c'è la guerra di Spagna si parla della guerra di Spagna la guerra civile 36-39 con anche la neutralità americana in un certo senso ma da parte degli intellettuali di sinistra un appoggio a volte anche proprio con l'intervento del brigate internazionale a favore del fronte repubblicano c'è anche la scelta degli Stati Uniti di entrare in guerra e di usare l'arma atomica quindi dare via alla corsa agli armamenti c'è Einstein con la sua lettera ovviamente a Roosevelt e poi però anche la tentativa di garantire la pace successiva c'è ovviamente il discorso su cosa fare della bomba atomica durante la guerra usarla o non usarla usarla per quale scopo per piegare la resistenza giapponese per far vedere che la si ha e qui dopo parliamo anche del discorso più filosofico ed etico c'è la discussione post guerra con la Russia che riesce ad avere anche lei la bomba atomica poi gli americani hanno la bomba H e i russi riusciranno ad avere anche loro la bomba H quindi questa corsa degli armamenti la deterrenza la guerra fredda c'è il mercartismo la paranoia anticomunista negli Stati Uniti di cui abbiamo parlato insomma dal punto di vista storico c'è metà del programma che abbiamo fatto in quinta metà no ma un quarto sì però devo dire anche che pure dal punto di vista filosofico c'è molta roba è chiaro che non vengono citati i filosofi non è lo scopo del film non è fare filosofia è raccontare vita vera però però i temi filosofici sono enormi il ruolo della scienza le conseguenze etiche delle scoperte scientifiche no cioè si vede il tormento di questo openheimer davanti alla scelta fatta e poi c'è un sacco di fisica e i miei studenti di quinta appena passata ma anche altri ricorderanno che negli ultimi anni quantomeno ho sempre fatto una lezione di portata filosofica della fisica del novecento noi parlevamo di Einstein e la relatività parliamo di meccanica quantistica parliamo di Heisenberg che si vede nel film che fa un discorso che è proprio preso pari pari quasi dalle mie dispense perché fa proprio quel discorso sulla causa e l'effetto che di solito riporto pari pari nelle dispense e su cui insisto con i miei studenti c'è la probabilità l'incertezza della meccanica quantistica ci sono moltissimi elementi nel film si vede anche a un certo punto Kurt Gödel che abbiamo citato parlato vi metto in descrizione i video che ho fatto su questo tema ma i miei studenti sanno che li abbiamo anche parlato in classe parecchio insomma c'è tutto c'è una parte anche qui della filosofia almeno dal Freud in poi dal dopo Freud del novecento che abbiamo fatto in filosofia e filosofia della scienza insomma un film che permette di ripassare buona parte del programma di Quinta anche nelle mie materie soprattutto nelle mie materie per questo direi anche che è un film da vedere e lo permette di fare questa è la cosa importante secondo me in maniera accessibile la sala in cui ero era piena non direi che tutti erano laureati in fisica o in filosofia o in storia anzi c'erano anche dei ragazzi c'erano anche persone probabilmente che queste cose le hanno sentito nominare non le hanno mai studiate e mi è sembrato che tutti alla fine chi più chi meno ovviamente ne uscissero bene dal film avrò davanti a me dei ragazzi giovani che ne parlavano mentre vedevano avrò di fianco a mano una famiglia che con una bambina anche piccola che capiva bene il film poi c'è qualche scena di sesso un po' esplicita quindi i bambini piccoli io non li ho portati però vabbè insomma diciamo che niente di che ormai tutto sto ganato quasi uscendo dal film c'erano una coppia di signori un po' più anziani che discutevano anche loro del film insomma è un film che pone le domande a tutti che riesce a parlare a tutti a spiegare qualcosa in maniera differenziata ovviamente di problemi della fisica della scienza della storia e della filosofia del novecento e quindi anche estremamente attuali per dire di quanto sia riuscito questo film di quanto sia anche soprattutto importante ma dopo la parte storica dopo la parte così critica parliamo un attimo anche del tema vero e proprio del film che è il dilemma etico perché al di là di tutto al di là delle vicende umane di Oppenheimer del suo duello con Strauss e tante altre cose che emergono nel film il tema principale è chiaramente uno ed è quello inevitabilmente da affrontare in un film del genere ed è il dilemma della bomba atomica è il dilemma della scienza in un mondo complesso come forse sapete Robert Oppenheimer è stato un importante fisico americano di origine ebraica che viene messo a capo del cosiddetto progetto Manhattan il progetto di ricerca per la realizzazione di un ordigno nucleare da usare appunto durante la seconda guerra mondiale perché partì questo progetto partì perché quando gli Stati Uniti entrarono in guerra si trovarono di fronte nemici letali e in particolare soprattutto la Germania nazista la Germania nazista che aveva avviato un progetto simile con vari mesi di vantaggio rispetto agli americani l'America dal punto di vista della fisica obiettivamente prima della seconda guerra mondiale era indietro rispetto all'Europa e rispetto anche alla Germania non si vede all'inizio perché Oppenheimer tra l'altro che è un fisico promettente va a studiare in Europa va a studiare in Inghilterra prima poi passa in Germania insomma studia dove sono i grandi scienziati dell'epoca i più grandi fisici dell'epoca erano tutti europei c'era Einstein ovviamente tedesco e anche lui poi emigra negli Stati Uniti anche lui davanti al nazismo però tedesco aveva operato in Germania e Einstein che comunque inizia ad essere già quasi superato verso la seconda guerra mondiale c'è Niels Bohr che è danese si vede nel film interpretato da Kenneth Branagh grandissimo fisico anche lui che più di Einstein forse aveva capito l'importanza della meccanica quantistica e lui è danese appunto opera anche lui in Germania la Germania la Danimarca l'Inghilterra eccetera c'è Heisenberg Heisenberg il più grande fisico della meccanica quantistica tedesco che tra l'altro mentre Bohr rifiuta di aderire al nazismo e anzi scappa a un certo punto mentre Einstein essendo ebreo scappa ancora prima Heisenberg aderisce alla ricerca tedesca poi non è un nazista feroce il fervorato però lavora per la Germania quindi dirige il programma di sviluppo tedesco di armi e quindi è un fisico pericoloso perché è il fisico che più di tutti aveva capito la mente più brillante dal punto di vista della meccanica quantistica dell'epoca quindi la Germania aveva forse il pezzo della 90 da giocarsi quando gli Stati Uniti tentano di correre ai ripari partono in svantaggio questo è sicuro non hanno le competenze scientifiche di per sé di fisici americani in grado di competere per loro fortuna hanno però una serie di fisici emigrati scappati dall'Europa perché appunto in Europa magari sono ebrei molti sono ebrei e rischiano pesantemente ce ne sono di varia natura si vedono anche nei film ungheresi danesi tedeschi che poi vengono in qualche misura inglobati nel progetto da appunto Oppenheimer che viene scelto nonostante poi il suo passato da simpatizzante comunista nonostante alcuni scaletti in armario viene scelto comunque per dirigere il progetto perché poi nei film non si vede fino a un certo punto aveva buone roti organizzative oltre a essere un ottimo fisico anche capacità organizzative di dirigere alla fine Oppenheimer non è il vero padre di per sé dell'energia atomica è però quello che ha diretto il progetto è un progetto collettivo voglio dire ci arrivano tutti insieme a realizzare la bomba non è un lavoro che uno può fare da solo non dovete pensarci lavorare un progetto centinaia se non migliaia di persone e c'era bisogno di tutti che facessero i calcoli che avessero le intuizioni che lavorassero si vede un po' nel film però lui era il responsabile ultimo era quello che dirigeva quello che coordinava che doveva tenere anche le regine in questo progetto anche mettere a lavoro degli scienziati che erano per loro una natura un po' anarchici un po' spaesati in un progetto militare che è tutt'altro esatto opposto il progetto militare è rigido i scienziati sono un po' così già in esregolatezza è abbastanza facile capire anche la difficoltà di far convivere queste due dimensioni ma lui anche proprio per carattere personale riusciva a essere entrambe le cose un militare e un fisico allo stesso tempo e questo gli ha permesso di dirigere il progetto quindi si mettono al lavoro recuperano lo svantaggio rispetto ai tedeschi e riescono alla fine dopo molte fatiche a essere pronti nell'estate del 1945 quando per ormai la guerra sta finendo la Germania si arrende a maggio l'Italia già ad aprile anzi già nel 43 della tuta ma insomma diciamo ad aprile e rimane solo il Giappone insomma certo la guerra con il Giappone è dispendiosa anche in termini di vita umana perché il Giappone non vuole arrendersi però insomma diciamo che la bomba atomica non è detto che sia più necessaria infatti nasce una discussione all'interno del gruppo di ricercatori finché c'era Hitler e Hitler ammazzava gli ebrei Hitler ammazzava una marea di gente il dilemma etico era molto meno gravoso in fondo si può essere pacifisti certo giustamente molti anzi dei scienziati che lavorano al progetto in fondo anche lo stesso Oppenheimer lo si vede si pongono grandi questioni siamo scienziati cerchiamo la verità ma stiamo lavorando un'arma di distruzione di massa e alcuni lo dicono fin da subito anche e soprattutto in fondo l'amico più importante è questo Rabi Isidor Isaac Rabi che poi è stato un fisico importante davvero questo personaggio vi faccio vedere anche l'immagine un po' ed era anche lui un po' grossotto che parla spesso si confronta spesso con Oppenheimer lui lo dice a un certo punto in maniera molto chiara io non voglio creare un'arma di distruzione di massa sono un fisico lavoro per la conoscenza non per la morte però è anche vero che Oppenheimer gli risponde si ma noi stiamo combattendo con Twitter se non ci arriviamo prima noi ci arrivano prima loro e se c'erano loro la bomba atomica alla fine e lì in fondo è un discorso che ha una sua logica è vero è sensato una bomba del genere in mano a Hitler rappresentava una minaccia letale per tutto il mondo se loro stanno andando avanti in quel progetto bisogna arrivare prima e bloccarli bisogna sconfiggerli prima che ci arrivino e se serve sconfiggerli con la bomba atomica forse può avere un senso lavorarci quindi lì il dilemma etico diciamo è sempre un dilemma rimane un dilemma perché è chiaro che si è portato a una scelta complicatissima però un dilemma etico diciamo che si può tutto sommato accettare è chiaro che è cinico perché tu dici ammazzerò della gente ma sarà per evitare che un numero enorme più alto di persone venga ucciso come quel dilemma quanti ne uccidi se proprio non posso fare meno che ne vengono uccisi meglio che ne vengono uccisi di meno che di più quindi con tutti i problemi del caso però si può capire come dei fisici anche con la loro coscienza umana abbiano alla fine accettato di partecipare a questo progetto perché? perché c'era una minaccia molto più letale Hitler era fuori da ogni grazia di Dio insomma diciamocelo è vero che poi i campi di concentramento vengono scoperti dopo ma sospetti pesanti da questo punto di vista c'erano e in ogni caso le truppe hitleriane avevano soggiogato avevano portato distruzione morte dappertutto bisognava fermarlo questo non c'erano dubbi diverso era il discorso per il Giappone è vero che il Giappone aveva avuto una politica molto aggressiva molto coloniale anche se era razzista ma non c'erano notizie di stermini di massa da parte dei Giapponesi il dilemma etico risultava molto alleggerito riguardo al Giappone cioè nel senso finché c'era Hitler in gioco vabbè siamo tutti d'accordo quando c'è solo il Giappone in gioco è un Giappone che sta comunque perdendo e sulla via della sconfitta e beh lì le questioni rifiorano non si può più mettere in pace la coscienza dicendo beh è necessario non è detto che sia per forza necessario e allora lì si vede il dilemma anche in Openheimer si vede attorno a lui perché c'è chi dice fermiamoci c'è chi dice acceleriamo addirittura perché avete visto c'è questo personaggio che è Teller che poi sarà un personaggio veramente vissuto questo fisico che poi sarà il fautore della bomba H che sarà un anche forse guerra fondaio possiamo chiamarlo così perché è fautore della deterrenza fautore di una corsa degli armamenti che insiste molto per la bomba H e anche il suo discorso ha la sua logica lui dice abbiamo creato la bomba atomica qualcun altro tenterà di crearla bisognerà che noi teniamo la bomba ancora più potente quindi andiamo verso la bomba H perché solo così potremo tenere a freno gli altri è un discorso molto anche se volete imperialista certo ma è un discorso anche che è il discorso di ogni armamento se io ho un'arma forte se arrivo un altro che ha un'arma più forte mi può ricattare e se quest'altro secondo me è meno rispettoso ai diritti umani di quanto non lo sia io si pone un problema etico c'è anche chi dice invece riduciamo Oppenheimer tenta di stare a metà via tra l'altro con molta ambiguità e questo lo si vede nel film questo è il bene del film che non crea degli eroi senza macchie senza paura che fanno sempre la cosa giusta crea persone che vivono le loro contraddizioni Oppenheimer non sa bene cosa fare lo si vede alla fine sceglie una via di mezzo che è un po' un compromesso con se stesso con la sua coscienza ma un compromesso un po' a ribasso vorrebbe da dire che lui dice no usiamola questa bomba atomica ha pressioni da parte ovviamente governativa da parte dell'esercito per usare questa bomba atomica cercando di convincere i suoi colleghi e forse tentando di convincere anche se stesso che solo usandola questa bomba atomica avrà senso per il perseguimento della pace nel senso che lui fa questo discorso noi l'abbiamo raggiunta possiamo anche dire di avere la bomba atomica possiamo anche fare un test finché non la vedranno non ci crederanno finché non vedranno che fa delle vittime non capiranno la portata di questa arma e solo usandola solo facendo le vittime quindi facendo anche dei morti centinaia di migliaia di morti noi potremmo dice lui garantire la pace al mondo perché vedendo il potere distruttivo di queste bombe solo un pazzo potrà voler continuare a fare guerre a quel punto si creerà una pace perpetua cioè è un discorso anche in questo caso cinico che tenta di avere una logica la logica è questa se io dico di avere una grande arma uno mi può credere un altro non mi può credere può pensare che io stia bleffando quando la mostro ne faccio vedere veramente la portata e che la vedranno tutti la paura per quest'arma bloccherà ogni scorsa degli armamenti Oppenheimer si comincia a usare l'arma a dire il suo sì perché alla fine dice il suo sì pur tra mille distingo dice il suo sì quello direi che quella sarà l'ultima arma di distruzione di massa sarà la prima arma di distruzione di massa ma anche l'ultima perché l'uomo non sarà così stupido da voler continuare su quella china una volta vista quindi in un certo senso dobbiamo scottarci dobbiamo vedere il male per capire che è il male quindi un discorso anche complicato capite bene quanto sia complicato dire proprio sì a una cosa del genere e poi il film ci racconta infatti come Oppenheimer deve scendere a pati con la sua coscienza dopo aver detto questo sì perché l'accusa che gli fa la moglie durante quel processo farsa di cui il protagonista è tu ti vuoi fare umiliare ti lascia attaccare perché devi senti dover espiare una colpa e vuoi espiare questa colpa secondo te questo è il modo per espiare questa colpa e poi uscirne è rigenerato e forse è anche vero forse è anche vero perché la scommessa di Oppenheimer a posteriore si rivela sbagliata l'uso della bomba atomica non ha fermato la corsa degli armamenti anzi ha portato la Russia a volerla ha portato l'America ad avere la bomba H la Russia ad avere la bomba H certo bombe che non sono più state usate nel senso che le bombe nucleari sono state solo sperimentate e non utilizzate sui civili per fortuna quindi forse si può anche dire sì la scommessa si è rivelata sbagliata fino a un certo punto in realtà a posteriori Oppenheimer ha avuto anche in parte ragione perché è vero che la corsa degli armamenti non si è fermata però nessuno più le ha usate però capite che entriamo in un campo molto controverso in un campo in cui è difficile giudicare e la domanda che il film sembra sollevare e che almeno io l'ho percepita spero l'abbiano percepita anche dagli altri spettatori noi nei panni di Oppenheimer cosa avremmo fatto tenete presente che Oppenheimer all'inizio aderisce al progetto perché è anche ambizioso perché come tutti gli scienziati ha una sfida davanti come tutte le persone che amano la conoscenza vogliono essere messe alla prova vogliono vedere se ce la fanno e dopo tre anni di lavoro quello che è la spesa enorme la fatica enorme vuole anche arrivare a una conclusione vuole arrivare a un successo è contento che la bomba funzioni come tutti lì sono contenti che la bomba abbia funzionato quando fanno il Trinity Test sono tutti contenti si applaudono e però c'è anche un po' l'inquietudine perché sì funziona abbiamo creato qualcosa ma possiamo diventare il distruttore di mondi a parte che c'era quel gioco del piccola possibilità di distruggere tutto il pianeta Terra ma poi al di là del fatto che la bomba funziona senza distruggere il mondo c'è la possibilità di distruggere il mondo comunque no? il film si chiude su questo sono diventato il distruttore dei mondi il problema di Oppenheimer è questo ho dato via a un processo che è quello della corsa degli armamenti che è quello di una scienza usata non più solo per conoscere e teoricamente migliorare la vita delle persone ma anche per distruggere questo processo l'ho avviato ed è destinato a continuare o l'ho avviato e sono riuscito nell'intento di far vedere la fiamma far vedere il fuoco e spaventare le persone davanti a questo fuoco per fare in modo che le persone dominano il fuoco c'è tutto il discorso di Prometeo che è estremamente interessante Prometeo è colui il quale nella mitologia greca dona il fuoco agli uomini e per questo viene punito dagli dèi Oppenheimer è quello che ha mostrato il fuoco nel senso della possibilità distruttiva della scienza agli uomini gli uomini hanno imparato a usare questa possibilità distruttiva della scienza oppure no il problema è che è un discorso da fare tra mille anni questo nel senso che per ora con mille problemi forse forse anche qualcosa hanno imparato però imparando non tutto perché le guerre continuano purtroppo perché le guerre sono ancora distruttive per fortuna per fortuna non si usano le bombe atomiche per ora però capite bene che il problema esiste il problema c'è il problema non è concluso noi cosa avremmo fatto noi avremmo detto il nostro sì avremmo detto ok su Hiroshima e Nagasaki avremmo detto no oppure si erano tirati indietro si erano fatti arrestare oppure avremmo detto devo collaborare per cercare di frenare i politici ecco il dilemma di tutti gli scienziati che si vedono nel progetto è questo è il dilemma di Einstein che lo dice anche è il problema di Bohr è il problema di Oppenheimer è il problema di Pelle in parte che poi risponde in un certo modo però anche lui si pone il problema ovviamente è il problema di Rabi è il problema di tutti quelli che ci sono e che si vedono gli unici che non si fanno il problema fateci caso sono i politici sono Strauss sono il presidente Truman che fa una figura barbina ecco gli unici che non si fanno problemi di coscienza sono i politici mi verrebbero chiudere in questo modo segno che le persone che capiscono le cose in questo caso i fisici ma potremmo dire anche i filosofi gli storici le persone che si pongono problemi che hanno una coscienza sono le persone che si pongono i problemi le persone intelligenti sono quelle non che capiscono per forza la fisica quantistica ma sono quelle che si pongono un problema che sanno che le decisioni sono problematiche che sanno che le scelte sono difficili e che non c'è una scelta giusta alla fine davanti alla bomba atomica dire di sì non è stata giusta dire che volevamo la bomba H non è stata giusta ma anche dire di no non era forse la scelta giusta nessuna scelta è veramente giusta in maniera limpida non è mai chiaro non è mai semplice scegliere quindi a posteriori può sembrare sì aveva ragione lui aveva ragione quell'altro ma a priori chi lo sa chi ha ragione sono sempre scelte complicate dove si scommette e però si scommette sapendo di poter sbagliare questo è il tormento di questi fisici gli unici che scommettono fregandosi nelle conseguenze sono i politici Truman quando gli dice openheimer ho le mani macchiate di sangue Truman dice tira fuori il fazzoletto e dice no ce le ho io ma per me non è un problema ecco Truman non imbecille ovviamente d'altronde Truman in generale nella storia degli Stati Uniti non sembra un personaggio troppo acuto intellettualmente obiettivamente non sembra un genio Strauss probabilmente uguale anche lui era un personaggio di questo tipo abbastanza ossessionato dal comunismo verso la fine della sua vita personaggi del genere personaggi che non si pongono veramente i dubbi che vedono il mondo in bianco e nero i buoni e cattivi noi e gli altri la decisione giusta e la decisione sbagliata la decisione giusta è quella che ci fa vincere la decisione sbagliata è quella che ci fa perdere i personaggi del genere sono quelli stupidi sono quelli veramente pericolosi purtroppo prendono le decisioni ultime le prendono loro di solito ma questi sono i personaggi difficili i personaggi tormentati sono invece i personaggi intelligenti che capiscono la portata delle loro decisioni l'intelligenza è qui è nel capire la portata delle decisioni è nel capire che non c'è una soluzione facile ai problemi che non c'è un sì o un no così semplice e che non si può convivere facilmente con le proprie decisioni pensate al mondo d'oggi questo cosa vuol dire noi abbiamo ancora oggi delle guerre anche in Europa azionate da personaggi stupidi che non si pongono i problemi davanti alle loro decisioni e quando noi nel nostro dibattito e qui chiudo ma no la mia opinione la mia visione abbiamo personaggi che dicono senza se e senza ma ecco la frase senza se e senza ma che in certi ambienti ha anche un senso i diritti vanno difesi senza se e senza ma sono d'accordo alcune cose senza se e senza ma certo sono d'accordo ma davanti alle guerre dire sì o no senza se e senza ma vuol dire essere un po' stupidi questo voglio dire perché la vita è fatta di se e di ma la vita è fatta di decisioni complicate poi le decisioni si prendono Oppenheimer alla fine ha fatto una presa una decisione non poteva esimersi da prendere una decisione aveva un ruolo aveva una responsabilità non poteva dire non lo so alla fine ha dovuto dire o sì o no da via di mezzo non era possibile alla fine ha detto sì dicendo beh c'è anche chi pensa di no però alla fine lui ha detto sì poteva dire anche di no certo ma doveva assumersi la responsabilità delle sue scelte e le scelte vanno fatte ma sempre ricordando che sono scelte complicate non dicendo io ho ragione gli altri hanno torto io ho sempre ragione gli altri hanno torto o è un estremo o un altro senza neppure un dubbio chi non ha dubbi è solo un imbecile ecco questo era quello che mi sentivo di dirvi raccontarvi spiegarvi riguardo l'openheimer spero aiutarvi a rifletterci un po' sopra ulteriormente se avete visto il film porvi anche voi dei dubbi imparare a essere persone che capiscono la portata di decisioni difficili certo speriamo di non essere mai chiamati a prenderle è una fortuna non essere stati openheimer è una fortuna non essere stati dei grandi fisici in quel momento però qualcuno quelle decisioni le deve prendere ovviamente chi siano sì o no con tutti i problemi connessi ma qualcuno le deve prendere e non invidio non invidio le persone che hanno grandi responsabilità però spero che anche la visione di questo film vi aiuti a capire i problemi della scienza della politica del mondo di oggi e direi che abbiamo detto tutto vi ricordo che in descrizione trovate i titoli che sono comparci qui per farvi ripartire il video da un punto o dall'altro e soprattutto i video che ho citato c'è il video anche di fisica che vi spiega un po' di meccanica quantistica un po' di Heisenberg di Einstein eccetera così potete avere davvero sembra fatto apposta ho fatto due anni fa ma sembra fatto apposta per capire openheimer quindi guardatevelo trovate anche il video su Gödel se volete ricordarvi chi era Kurt Gödel trovate poi video anche di storia sulla bomba atomica sul meccartismo e poi anche vi metto la playlist breve l'approfondimento che ho fatto sui colonici Rosenberg due che vennero accusati nell'apoguerra durante proprio il meccartismo di spionaggio per le Unione Sovietica e condannati a morte tra l'altro attenzione il clima della fobia verso lo spionaggio per l'URSS c'era davvero negli Stati Uniti e fece delle vittime openheimer andò anche bene uno che era stato vicino all'ambiente del Partito Comunista e che sposò con una moglie che era stata iscritta al Partito Comunista eccetera tutto sommato gli andò anche bene poteva andare anche peggio quindi guardatevi tutte queste cose poi in descrizione trovate anche i modi per rimanere in contatto col canale tramite i social network e la newsletter gratuita settimanale che vi consiglio caramente dove parlerò anche di questo film in maniera discorsiva e parlo spesso di film, libri filosofia, storia eccetera e poi vi ricordo che questo video è possibile anche grazie al contributo di tanti sostenitori piccole cifre grandi cifre quello che volete per fare in modo che questo progetto funzioni per l'attrezzatura per lo spazio per i dischi rigidi per i libri per i film per questo e per quello se volete dare una mano anche voi e contribuire al progetto se vi piace quello che faccio soprattutto e volete che continui ci sono mori per donare tramite donazioni di paypal tramite libri merchandising ma soprattutto anche tramite l'amoramento al canale youtube che vi consiglio anche di avere video in anteprima dirette riservate canale telegram riservato dispense di filosofia e altro ancora a seconda poi del pacchetto che scegliete ma sono pacchetti anche molto economici guardate in descrizione tutto spiegato per sostenere appunto questo progetto mese dopo il mese ho detto tutto ci vediamo presto per parlare ancora di filosofia storia ovviamente ma ogni tanto anche di film di libri e altro ancora ciao alla prossima grazie a tutti Grazie a tutti.